Siamo qui con Macro Diamond, fuori il pubblico è già caldissimo, tu sei pronto perché immagino che dopo due anni di attesa finalmente potrai scontrarti con Valterego, cosa ne pensi? Sei pronto? Sei carico? Dopo due anni di attesa dire di essere pronto è fin troppo poco. Io voglio prendere a botte Valterego, insegnarli che può vincere o perdere, anche correttamente, senza l'aiuto dei suoi cagnolini, anche perché lui è uno dei tanti cagnolini dietro la stable di Malacarne. Esatto, qui c'è Valterego e dopo due anni di faida, come possiamo chiamarla, da quella volta che te la sei presa per una battuta che ti ho fatto per andare nel Team Viva, siamo qui? Momento, innanzitutto era la mia intervista, quindi poi magari quando arriva il tuo momento parlo. Passavo di qui, pensavo di darti un saluto, un buon augurio per il match di dopo. Ho capito, ho capito, pensa a passare sul ring e ce la vediamo sul ring. Io sono convinto che questa sera sarà la mia sera, com'è? È sempre così insomma. Questa qua sarà la sera in cui tu te la andrai sotto una barella. E tu che dici? Io guarderò il match, ma non capite niente. Ciao! Ciao!